Allerta gialla per neve prorogata sino alle 12 di domani, oggi abbondanti nevicate in tutto l'entroterra imbiancata la Val Daveto. Il sindaco della città metropolitana Marco Doria, ospite di Direttamente Su, conferma la scelta del depuratore comprensoriale e dice noi abbiamo fatto il nostro dovere. Sette arresti e 30 denunce a Genova per traffico di rifiuti e reati contro la pubblica amministrazione ai domiciliari dirigenti di Amio e della principale sub appaltante. Il comitato malati del Tiguglio punta a creare unità di intenti tra gli amministratori locali per salvaguardare l'Asel 4 e il suo funzionamento, il punto nell'assemblea annuale del sodalizio. 8 marzo, festa della donna, consegnata a Sabina Croce la ventitresima edizione del premio dei corsi di cultura di Chiavari. Gentili telesferatori all'ascolto, buonasera a tutti e benvenuti nei nostri studi. Maltempo, quindi maltempo in apertura di nostro giornale. In queste ore stiamo assistenti a un vero e proprio ritorno dell'inverno. Ce ne siamo praticamente accorti tutti con le temperature che hanno subito un brusco abbassamento e la neve che ha fatto la sua ricomparsa anche a quote collinari. Resta in vigore fino alle 12 di domani l'allerta meteo gialla per neve nell'entroterra. Questo pomeriggio il nostro Maurizio Garreffa è andato in Valdaveto per vedere la situazione. Vediamo quello che ha raccolto nel servizio che segue. Siamo nel bel mezzo della tormenta di neve che sta interessando la Valdaveto. Siamo arrivati molto bene sino a Bertigaro, poi dalla squazza in su il manto bianco cominciava a essere veramente molto consistente, a soffermarsi sulla strada, sulla careggiata e anche sugli alberi. Colpo di coda dell'inverno e vette imbiancate. La Valdaveto torna ad indossare il manto bianco. In questa strana stagione è accaduto ben poche volte. Dunque sorridono i gestori degli impianti di risalita. La neve fresca durerà sino a fine mese e attirerà turisti e appassionati. Sto andando bene ora, ma prima diciamo che la situazione è fatta sì che si comunasse una perdita dell'ordine del 70-80% rispetto alle stagioni scorse. Questo è un problema non solo per la società, intesa come i numeri della società, ma anche per i dipendenti innanzitutto, perché sono gran parte stagionali che hanno cominciato a lavorare con due mesi di ritardo e poi per tutto l'indotto anche del paese di Santo Stefano e non solo ma anche di tutta la valle perché comunque niente neve, meno passaggio, meno gente che si ferma in paese, meno gente che passa nei centri della valle, comunque meno gente che si ferma e meno ritorno per l'economia. Un 70% irrecuperabile ormai perché siamo verso metà mese. Sì, direi di sì, ormai siamo a fine della stagione, stiamo già lavorando per l'estivo ormai. In questa giornata d'allerta gialla nivologica per l'entroterra, i primi fiocchi bianchi si sono fatti vedere intorno alle 7 del mattino a Santo Stefano Daveto, dopodiché la tormenta si è fatta molto abbondante, nevicata intensa nel primo pomeriggio per poi riprendere verso sera. Si è fatta tenere e senza neve siamo un po' penalizzati perché gennaio, febbraio ci vuole la neve, non possiamo, infatti stiamo premendo anche sul comune che si attivi per qualche finanziamento per avere i canoni sparaneve in modo da poter essere operativi quando c'è la possibilità. L'allerta gialla per neve è stata prorogata sino alle 12 di domani. La protezione civile della nostra regione ha emesso un nuovo messaggio nella tarda mattinata di oggi. La nuova allerta gialla, la più bassa in ordine di criticità, è valida sino a mezzogiorno di domani sia per quanto riguarda Levante e Ligure che per quanto riguarda i bacini interni della regione Liguria. Vediamo comunque le previsioni per la giornata di domani. Quali sono le previsioni per le prossime ore? Esattamente, ancora fino alla parte centrale della giornata di domani ci aspettiamo deboli precipitazioni a carattere nevoso nell'entroterra della regione, in particolare nell'entroterra della riviera di Levante, una quota neve non particolarmente elevata perché partiamo con una quota neve di intorno ai 300-400 metri e la situazione meteo dovrebbe restare inalterata fino a domani. Abbiamo dei venti forti da nord con raffiche sulle parti più esposte oltre 100 km all'ora che contribuiranno ad aumentare la sensazione di disagio da prezzo. Le navicate previste sulla zona cosiddetta E che è quella grossa modula da Val Daveto e sulla zona interna di C che è quella che da moda di Portofino arriva fino alla confine con la Spezia avranno una quota neve intorno ai 300-400 metri nell'interno di C, mentre nella zona della Val Daveto sarà a tutte le quote. Il cumulato al consuolo dovrebbe essere deboli, quindi si tratta di pochi centimetri. Potremmo avere qualche locale accumulo un po' più significativo in corrispondenza di eventuali rovesci e qualche possibile sconfinamento anche nell'area del Genova esatto. Si manterrà comunque sempre come precipitazione all'interno a carattere nevoso, mentre lungo la costa dovrebbe essere precipitazione di pioggia. Per quelli che sono i dati in vostro possesso, la fascia oraria dove dovrebbero concentrarsi le precipitazioni, qual è a grosso modo? Rispetto a ieri sembra un pochino più lenta, quindi dovrebbe essere a partire da stasera e poi notte fino alle ore centrali della giornata di domani. Si tratta di precipitazioni diffuse, deboli, quindi lentamente questi fiocchi potranno andare ad accumularsi, ma non dovrebbero avere valori particolarmente significativi. Per quanto riguarda le temperature, le minime nel Levante si registrano in Val Daveto, dove la colonnina di Mercurio è scesa sotto lo zero. Circa 7 gradi sotto zero al Monte Bue, meno 6 al Prato della Cipolla, meno 4 a Rocca Daveto, meno 3 al Passo del Tomarlo e meno un grado al Lago delle Lame. Vedete queste belle immagini suggestive del nostro entroterra. Il primo anno di attività della città metropolitana di Genova è stato caratterizzato dall'organizzazione dell'ente e dalla difficoltà dovuta al taglio di risorse economiche. Il sindaco Marco Doria, ospite di Direttamente Su, si è confrontato con alcuni sindaci del Tiguglio sulle esigenze prioritarie del territorio. In merito al depuratore comprensoriale ha confermato la scelta compiuta dalla città metropolitana. Lo ascoltiamo. Effettivamente la città metropolitana non ha le risorse per coprire tutti i propri compiti. Le risorse sono state tagliate di brutto dal Governo nazionale sulla base di un'indicazione che era quella di, come si diceva, spending review, riduzione della spesa pubblica e questo ovviamente si traduce in una difficoltà oggettiva a presidiare dei campi di intervento che sono importanti. Le priorità di spesa per la città metropolitana quali sono? Chiaramente come spesa di investimento abbiamo viabilità e edilizia scolastica. Cercheremo di avere quest'anno delle risorse aggiuntive vendendo allo Stato italiano due immobili, la Questura di Genova e una caserma dei Carabinieri, in modo da recuperare risorse per finanziare lavori pubblici. Chiavari non accetta l'individuazione della colmata da mare come località dove sistemare il depuratore comprensoriale. In che direzione si sta andando? Guardi, io non voglio entrare in polemica anche con amici di Chiavari e col sindaco Levalgi. Io penso che esistano le condizioni per rendere questo depuratore assolutamente compatibile con investimenti di valorizzazione di quest'area. Esistono degli esempi a Genova e altrove in cui questa avviene. Secondo me può avvenire anche a Chiavari, però la città metropolitana aveva un dovere. Individuare un'area che dal punto di vista tecnico consentisse la collocazione di un depuratore. L'abbiamo fatto perché non vogliamo che il nostro territorio e i cittadini del territorio subiscono delle multe pesantissime che arriverebbero dall'Unione Europea. Se altri vogliono assumersi la responsabilità di fermare un processo oppure di mettere in discussione certe scelte, lo fanno. Io rispetto la libertà di scelta di ciascuno. È in programma per domani mattina alle ore 11 un sopralluogo dell'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone nella zona del comune di Lorsica, interessata dalla Frana che da due settimane a questa parte, sta bloccando il transito sulla provinciale 23 della Scoglina. La regione intende intervenire per il ripristino della viabilità erogando un contributo. La città metropolitana per permettere così la riapertura della strada e limitare i disagi alla cittadinanza. L'assessore sarà accompagnato dal consigliere regionale Muzio, dal sindaco di Lorsica, De Ferrari ed alcuni amministratori e tecnici della città metropolitana. Il consiglio metropolitano di Genova è convocato domani 9 marzo alle 15 e 30 presso la sala del consiglio di Palazzo Doria Spinola. Sono quattro i punti all'ordine del giorno. Tra questi verrà discussa e messa in votazione la variazione al bilancio di previsione triennale 2016-2018 per la chiusura delle residui attività relative al catalogo regionale a voucher per l'apprendistato professionalizzante o di mestiere per l'acquisizione delle competenze di base e trasversali. È stato approvato dalla Giunta regionale il calendario scolastico 2016-2017. Le lezioni cominceranno mercoledì 14 settembre 2016. Termineranno sabato 10 giugno 2017. In tutte le scuole di ordine grado della Liguria per un totale di 206 giorni. Le scuole dell'infanzia invece chiuderanno venerdì 30 giugno. I giorni di vacanza stabiliti oltre alle domeniche e alle festa del Santo Patrono sono il 1 di novembre, l'8 di dicembre. Nei giorni feriali le scuole resteranno chiuse il 23 dicembre 2016 sino al 7 di gennaio 2017. Poi dal 13 aprile al 18 aprile per quanto riguarda le vacanze pasquali. Chiuse anche 24 e 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno. 7 arresti per reati in materia ambientale nei confronti della pubblica amministrazione. Li hanno chiesti e eseguiti questa mattina i carabinieri per la tutela dell'ambiente di Milano in collaborazione con i militari dei comandi provinciali di Genova e di Alessandria. Gli la principale subappaltante di Amio, oltre che un socio e un dipendente della stessa società. L'accusa, associazione a delinquere, finalizzata a commettere reati contro la pubblica amministrazione e traffico illecito di rifiuti. In tutto 30 persone sono coinvolte in questa indagine e sono state sequestrate i beni per un milione di euro. I dettagli nel servizio che segue. Traffico illecito di rifiuti, reati contro la pubblica amministrazione. I carabinieri hanno concluso questa mattina sette arresti. 30 le persone coinvolte a vario titolo nell'indagine fra dipendenti e dirigenti di Amio Genova e Switch, la sua principale subappaltante. Indagine che era partita in realtà nel 2012 ed era stata condotta dai carabinieri del nucleo operativo ecologico di Genova. In prima battuta l'attività aveva portato nel 2014 all'arresto del dirigente del servizio acquisti di Amio, oltre che di altre persone. In quest'ultima fase sono stati accertati diversi episodi di gestione illecita della raccolta differenziata che ha procurato a Switch profitti illeciti, ma ha generato maggiori oneri tariffari ai danni dei cittadini di Genova, il tutto con la collaborazione di numerosi dirigenti e dipendenti di Amio collusi. Il sistema di frode, secondo gli investigatori, era collaudato. La Switch si aggiudicava appalti con ribasti vertiginosi e poi metteva in campo diversi sistemi per ottenere profitti illeciti, ad esempio simulando ritiri di ingombranti inesistenti o decuplicando i quantitativi di rifiuti smaltiti per conto del Comune di Genova, o ancora smaltendo rifiuti ingombranti come se fossero stati rinvenuti e abbandonati sul territorio, quando in realtà non lo erano, il che comportava rimborsi e maggiorazioni di costi. Inoltre la stessa società aveva fra i suoi clienti diverse aziende private, i cui rifiuti venivano smaltiti a spese di Amio, grazie alla collaborazione di dipendenti corrotti della municipalizzata. Non solo, ma la mano d'opera utilizzata proveniva da un'azienda di facciata creata ad arte per avere una indebita riduzione di costi. C'è poi un episodio diffuso questa mattina dai carabinieri che coinvolge anche alcuni dirigenti dei Vigili del Fuoco, che sono stati denunciati perché avrebbero evitato a Switch una denuncia alla Procura della Repubblica in occasione di un incendio che si era sviluppato nel magazzino della società dopo la rimozione di alcuni sistemi di sicurezza, allo scopo di permetterne il funzionamento oltre ai limiti previsti. Un sistema dunque molto collaudato. Gli arrestati sono ai domiciliari. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per un milione di euro. Ancora cronaca, a Genova la Guardia di Finanza ha sequestrato 1908 pasticche di ecstasy che venivano trasportate insieme a 300 grammi di chetamina, un potente allucinogeno. Il controllo è avvenuto presso il porto di Genova. I finanzieri hanno deciso di controllare un 33enne italiano che era appena sbarcato da un traghetto proveniente da Barcellona perché i cani antidroga avevano mostrato attenzione nei confronti della sua auto e lui stesso ha mostrato segni di forte agitazione. Le pasticche sono state trovate dentro un borsone. Il valore al consumo delle sostanze è sequestrati di circa 60 mila euro. L'uomo in evidente stato di alterazione psicofisica è stato condotto all'ospedale Villa Scassi per essere sottoposto ad analisi che hanno confermato l'uso di cannabis, motivo per cui gli è stata ritirata la patente di guida. Grazie a una complessa e articolata indagine la Guardia di Finanza di Genova ha individuato e denunciato all'autorità giudiziaria alcuni cittadini stranieri abitanti nel territorio genovese e commercianti, artigiani italiani e cinesi attivi nella città di Brescia che costituivano l'intera filiela di produzione e commercializzazione di merce contraffata destinata ai venditori abusivi della Liguria. Alla fine delle indagini sono stati sequestrati 5 immobili, oltre 1 milione e 400 mila euro di prodotti contraffatti e diversi macchinari per lavori di sartoria. Una persona è stata arrestata e 21 sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Genova per i reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, ricettazione, resistenza pubblico ufficiale e immigrazione clandestina. Inoltre la Guardia di Finanza ha accertato la vendita di circa 300 mila prodotti, recanti, marchi contraffatti. Torniamo alle notizie di Casa Nostra. A Lavagna si è svolta l'assemblea annuale del Comitato Assistenza Malati del Tiguglio che ha fatto il punto della situazione sull'attività del sodalizio. La recente proposta di riorganizzazione della Slequattro Chiaverese lanciata dal Comitato è stata oggetto di ulteriore approfondimento, ma c'è stata anche l'occasione per descrivere i progetti futuri e quelli già realizzati. Il servizio lo vediamo insieme. Una discussione aperta nello spirito di collaborazione che contraddistingue il Comitato Assistenza Malati Tiguglio. È la sintesi dell'assemblea annuale del sodalizio che si è tenuta a Lavagna presenti gli amministratori di diversi comuni del territorio. La recente proposta di razionalizzazione dell'offerta sanitaria si inserisce a pieno titolo nella stesura del libro bianco della sanità che la Regione ha appena avviato, ascoltando tutte le parti interessate da oggi e per i prossimi mesi. Il fattore fondamentale è che viene tutto fatto nello spirito di costruire assieme. E quello anche della sanità io credo che sia uno degli aspetti più importanti che deve interessare tutti i cittadini, non solo chi ne ha bisogno. E per far questo bisogna che anche ci sia d'accordo da parte di tutti di poter avere un obiettivo unico. Credo che sia utile che ognuno dica e porti un contributo a una situazione che ci vede in una situazione felice per quanto riguarda la sanità ma che è chiaro debba essere monitorata e soprattutto guardato al futuro per quanto riguarda la riorganizzazione degli ospedali. Insomma è importante che Lavagni diventa un ospedale completo ma è anche importante che gli altri due poli vengano visti nella giusta misura, nella giusta luce. Nel corso dell'assemblea è intervenuto anche il direttore generale dell'ASL 4 chiavarese Paolo Cavagnaro al quale il presidente del comitato Giancarlo Mordini ha rappresentato la necessità di un numero maggiore di posti letto per posti acuti, ossia per pazienti che hanno subito gravi interventi o traumi importanti e che devono affrontare una lunga degenza. Ma l'assemblea ha avuto lo scopo principale di fare il punto della situazione sull'attività benefica svolta dal comitato. I progetti richiesti ne abbiamo tantissime. Figurati ci sarebbe da rinnovare il parco delle strumenti per le radiografie che stanno in piedi proprio perché vengono riparate continuamente. Abbiamo un bilancio di previsione molto consistente. Speriamo che arrivino delle donazioni, arrivino dei contributi. Il rapallese Lorenzo Squadrito ha ricevuto dalle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella il prestigioso premio Leonardo 2015. Il giovane che ha solo 22 anni ha conseguito il riconoscimento per la sua tese di laurea magistrale in design navale e nautico, corso inter-facoltà di architettura e ingegneria tra l'Università di Genova e il Politecnico di Milano con sede alla Spezia. Dal titolo Illusion, progettazione di un catch di 60 metri applicando i principi della psicologia. Soddisfazione per il premio ricevuto è stata espressa dal sindaco di Rapallo. Il paese ha bisogno di giovani come lui e per noi rappresentanti delle istituzioni. È uno sprono a far sì che le eccellenze del territorio siano valorizzate. Così ha commentato orgoglioso il primo cittadino di Rapallo. È stata firmata una convenzione tra l'Istituto Scolastico Davigo e il Comune di Rapallo in cui quest'ultimo si pone come committente esterno in un percorso di alternanza scuola-lavoro tra gli studenti che devono svolgere come previsto dalla riforma comunemente detta la buona scuola. Il progetto presentato questa mattina nella sala consigliare del Municipio di Rapallo vedrà gli studenti del Davigo impegnati a partire dall'estate nel nuovo IAT nella Biblioteca Internazionale Città di Rapallo e nei musei civici del Comune Rapallese. Oggi è la festa della donna, ma noi vogliamo parlarvi di una donna che non c'è più, Raffaella. E lo vogliamo fare con le parole del marito, Fabio Mazza, che l'ha accompagnata fino all'ultimo giorno della sua vita e ha scritto per lei una canzone descrivendo quello che provava in quelle settimane mentre lei si spegneva. È la storia di un amore che continua, un amore in musica. Vediamo. Finché avrò vita, lo chiedo a Dio, perché questa ferita... Fabio e Raffaella, un rapporto d'amore che prosegue. Non c'è la parola fine in fondo alla loro storia, ma c'è una canzone che continua ad unirli. Raffaella ha combattuto per anni una malattia invincibile, si è spenta nel 2010 lasciando il marito e un figlio ancora piccolo. Fabio ha poi voluto raccontare in una canzone tutte le sue emozioni. La canzone l'ho scritta nell'agosto del 2010, l'ho scritta perché stavo perdendo mia moglie che è stata malata per diversi anni, purtroppo ho avuto una malattia molto grave, un tumore e negli ultimi tempi, negli ultimi mesi purtroppo questa malattia l'aveva un po' ridotta a dormire molto tempo e io me la sentivo scivolare tra le mani e quindi ho ripreso in mano una chitarra e ho provato a scrivere le emozioni che provavo. La canzone Ti stringo a me ha avuto centinaia di visualizzazioni su YouTube dove Fabio l'ha pubblicata appena tre mesi fa. In tanti lo hanno ringraziato per il ricordo, per l'emozione, per la bellezza delle parole. Una volta l'ho suonata che c'era anche lei, però era agli ultimi tempi, non ha capito molto bene, gli ho detto che l'aveva scritta Raph o qualcun altro, non mi ricordo, che parla di una storia d'amore che doveva finire e c'erano anche tanti amici quel giorno e gliel'ho suonata e alla fine mi ha applaudito. Quindi ha capito probabilmente anche... È stato emozionante. Si è svolto questo pomeriggio presso l'auditorium San Francesco di Chiavari in occasione dell'8 marzo Festa della Donna, la cerimonia di consegna del premio Festa della Donna, la città di Chiavari, Donna dell'Anno 2016. Il riconoscimento istituito 23 anni fa dai corsi di cultura è stato assegnato quest'anno a Sabina Croce, stimata e apprezzata ginecologa e direttore artistico della squadra di calcio della Virtus Entella. Nel corso della cerimonia la dottoressa Croce ha ricevuto la targa dalle mani del sindaco di Chiavari, l'ingegner Levaggi. Non sono mancati intermezzi musicali per una festa all'insegna delle donne. Una scelta all'unanimità, quella dell'assegnazione del premio, fatta da diverse associazioni di volontariato del Tigulio che hanno riconosciuto l'impegno di Sabina Croce nel coniugare lo sport con la cultura, oltre che l'apprezzamento per la sua professione di ginecologa, da sempre accanto alle donne. Un regalo alla città di Santa Margherita Liguri a tutte le sue donne nel giorno dell'8 di marzo. Arriva da Edoardo Ceccardi, scultore che da oltre 50 anni opera nella sua bottega d'arte. Ceccardi ha deciso di donare una scultura in terracotta, in gobbio, rappresentante la maternità della Vergine Maria che vedete appunto in questo momento. L'opera sarà esposta a Villa Durazzo in occasione della mostra a mercato in programma dal 10 al 13 di marzo nell'ambito della manifestazione Il Bello delle Donne. Il maestro Ceccardi ha donato anche un ritratto in terracotta dell'ingegnere Bellometti che sarà esposto nella sala di Villa Durazzo in cui sono custodite le opere d'arte che lo stesso Bellometti lasciò alla città. Nell'ambito della rassegna Il Bello delle Donne saranno esposte anche due opere che l'artista Ceccardi aveva precedentemente regalato alla città. Un busto di rossi e due testine di fanciulle. Mercoledì 16 marzo partirà nella biblioteca di Carasco il progetto Compiti Facili. Patrocinato dal Comune di Carasco è rivolto ai ragazzi con disturbi specifici di apprendimento. Il progetto ideato dal Centro di Psicoterapia dell'età evolutiva Officina Imparo e Vado di Chiavari è suddiviso in tre fasi. Formazione dei docenti nelle scuole sulle difficoltà scolastiche e disturbi specifici di apprendimento. Dopo scuola con personale specializzato e l'utilizzo di tecnologie appropriate per l'apprendimento. Sportello per genitori e insegnanti. A sostegno di questa iniziativa domani mercoledì 9 marzo alle 20 presso l'Istituto Assarotti di Chiavari si svolgerà una cena di raccolta fondi patrocinata dal Comune di Chiavari e dal Comune di Carasco e promossa da Lions Club, Valle Fontanabuona, Contea dei Fieschi e Chiavari Castello. L'appuntamento è aperto a tutti. La quota di partecipazione è fissata in 25 euro a persona. E ora come di consueto scheda degli appuntamenti per i prossimi giorni. Andrea Capitani. Appuntamenti in agenda per mercoledì 9 marzo. Dalle 10 alle 12 visite guidate su prenotazione al Museo Diocesano di Arte Sacra in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 a Chiavari. Si potranno ammirare dipinti, argenti e tessuti provenienti dalla cattedrale o dalle chiese delle parrocchie della Diocesi. Al Cinema Mignon di Chiavari per la rassegna quota e rosa verrà proiettato il film Much Loved ad ingresso gratuito. Orario degli spettacoli 15.15, 17.30, 21.30. Alle 16 all'Accademia Culturale di Rapallo a Villa Queirolo si trarà l'incontro sul tema Prometeo, il primo inventore, il mito del progresso del mondo greco. Interverrà il professore Marco Martin. Dalle 16 alle 19.30 nella Galleria d'Arte Cristina Busi a Chiavari in Via Martiri della Liberazione sarà visitabile la mostra dal titolo Natura e Popolazione con i dipinti di Luiso Sturla. Dalle 16.10 alle 17.20 per recorsi di cultura di Chiavari nella sede di Via delle Vecchie Mura il docente Michele Marino terrà una conferenza sulla musica jazz a tema della festa della donna. Alle 16.30 nella Sala delle Ardesi e della Biblioteca Civica di Lavagna avrà luogo l'incontro Lavorare 2.0 un laboratorio ad ingresso libero per scoprire strumenti e opportunità dell'era del web 2.0 incontro a cura di Roberto Frugone e Fulvio di Sigismondo. Infine alle 17.00 alla Società Economica di Chiavari in Via Ravaschieri a cura dell'Associazione Italo-Britannica si trarà una lettura poetica Family Images Through the World of Some Greeds Poets di Marina Grazia Crateri. Torniamo alla cronaca prima di chiudere il giornale un uomo di 68 anni pregiudicato residente a Genova è stato arrestato dai carabinieri di Rapallo con l'accusa di tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e di Grimaldelli. I militari dell'arma nel corso di un servizio perlustrativo hanno sorpreso l'uomo nelle vicinanze di piazza San Marcellino mentre cercava di forzare con un ferro artigianale i portamonete di tre cabine telefoniche. Sottoposto a perquisizioni è stato trovato in possesso di altri due Grimaldelli. Per lui sono scattate le manette. Aveva pagato 2200 euro per acquistare uno spaccalegna che aveva visto su un sito internet mal macchinario non gli era mai stato consegnato. Per questo un 55enne di Santo Stefano Daveto ha denunciato un 48enne al quale aveva versato il denaro tra febbraio e marzo. L'uomo che aveva precedenti di polizia specifici è stato denunciato per truffa dai carabinieri. Un uomo di 70 anni è stato investito da una moto questa mattina a Chiavari. L'incidente si è verificato intorno alle 10 all'incrocio tra Viale Casman e Corso Dante. A causa della pioggia il conducente del mezzo a due ruote frenando ha perso il controllo del mezzo che scivolando è andato a colpire l'anziano mentre stava attraversando. Sul posto sono giunti i medici del 118 per prestare i primi soccorsi. L'uomo ha riportato un forte trauma cranico ed è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova il leso invece il conducente delle due ruote. Con questa notizia termina il giornale. Prossimo appuntamento con l'informazione domani 12.45 TG13. Grazie per essere stati con noi. L'augurio di una buona serata con i programmi della nostra rete. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.